Guarda gli animali te lo so, ci sono i cazzelli orici, non ci sono i tigri, tutti i antilofi sono i tigri, i braccioni, gli istrici, dei cavalli, dei cavalli, gli istrici, sono degli animali di istrici, porcospini, tutti gli istrici. Ma non cazzelli orici, no signorini, signorini, oh no chiama Gino, un toro Gino, chiama, quello è Gino, chiama Gino, Gino, no 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 attenzione, new Gino, new Gino, no no un toro, Gino, Gino, no chiamare Ferdinando, un altro toro Ferdinando, un altro cazzaro, un altro vatusso, un cazzaro, No è un toro, attenzione ci sono i tori, i tori bianchi, un toro bianco. No ci sono i popotami, tutti i popotami. No è la gazzella, i popotami, i popotami, no attenzione a destra, signori no, no questo no, non è Nicolangelo. Wow quante corna antilope, quante corna antilope. C'è una corna grande. Chiama Gino. Gino? Ciao Gino. Ciao Gino. Ciao Gino. Come va verso di mucca? Di qua? No, di qua, sono i Adonelli, i dromedari. No, lo voglio chiamare, chiama Enzo. Enzo, Enzo, Enzo Dong. No, all'altro da vicino. Vuoi chiamare Antonello, cammello. No, chiama Antonello. Chiama Antonello. Chiama Antonello. Antonello? Antonello? Lui, un altro cammello. Andiamo? Andiamo a vedere di qua. Chiama... Chiama Gennaro. Chiama Gennaro questo. Gennaro? No, signor Cammello. Signore, signor Cammello. Mister Cammello. Si, mister Cammello. Mister Popotamo. Signor Popotamo. Signor Popotamo. Eh, Gigino. Chiama Gigino. Gigino? Gigino? MJ Tafiro. Chiama Gino.